Pane e lettere per tutti! E poesia sia! Saranno con voi per 24 trasmissioni in questo cammino che faremo insieme Lara Di Carlo, Tiziana Narciso e Antonella Pagano. Naturalmente ospiteremo tutti gli autori, poeti e anche coloro che scrivono romanzi e prosa e teatro ed altro, gli autori FUIS ma anche altri che ospiteremo con le loro altre lingue e le loro altre nazionalità. E adesso veniamo al perché noi siamo qui e perché a Monte c'è un progetto che si chiama Sillabe e Note in TV FUIS. E questa è la ragione per la quale noi intendiamo portare alla condivisione di tutti gli iscritti alla FUIS e a Federi Intermedia e non solo le composizioni poetiche e le prose. Perché la nascente TV saprà moltiplicare le possibilità di confronto fra tutti i soci, saprà favorire l'interesse e la crescita ma anche la valorizzazione e la comunicazione su più vasto raggio. Anche oltre i confini nazionali. Alterneremo la lettura, ai commenti, le interviste, ai brani musicali sicché note e sillabe risuonino in Italia e in tutte le nazioni e continenti che si collegheranno. Desidero aggiungere due parole alla descrizione del progetto che ha fatto Antonella Pagano perché ha un altro punto di forza, la realizzazione di un audiolibro che raccolga una, due poesie e uno, due racconti per ciascuna tematica, tra i migliori elaborati chiaramente, con una nostra presentazione iniziale che realizzerà una narrazione audio in grado di andare oltre la conservazione della memoria, poiché lascerà la storia personale e collettiva le composizioni insieme alle emozioni, le sensazioni e le osservazioni dal vivo degli autori protagonisti delle 24 trasmissioni. L'audiolibro sarà curato dalla mia casa editrice Pandilettere e anche per l'audiolibro le voci saranno di Antonella Pagano per la poesia e di Tiziana Narciso per la prosa. I commenti musicali saranno curati dal maestro Cristiano Voltaggio che ha realizzato anche la nostra sigla e i commenti musicali che ci accompagneranno lungo tutto questo cammino che faremo insieme attraverso le varie puntate chiaramente di Silla ben note in tv. Dal fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello Nulla si inventa, è vero che non abbia una qualche radice più o meno profonda nella realtà e anche le cose più strane possono essere vere anzi, nessuna fantasia arriva a concepire certe follie certe inverosimili avventure che si scatenano e scoppiano dal seno tumultuoso della vita ma pure come e quanto appare diversa dalle invenzioni che noi possiamo trarre la realtà viva e spirante di quante cose sostanziali, minutissime, inimmaginabili ha bisogno la nostra invenzione per ridiventare quella stessa realtà da cui fu tratta di quante fila che la riallaccino nel complicatissimo intrico della vita fila che noi abbiamo ricise per farla diventare una cosa a sé ora, che cos'ero io, se non un uomo inventato una invenzione ambulante che voleva e del resto doveva forzatamente stare per sé pur calata nella realtà assistendo alla vita degli altri e osservandola minuziosamente ne vedevo gli infiniti legami e, al tempo stesso, vedevo le tante mie fila spezzate potevo io rannodarle ora queste fila con la realtà chissà dove mi avrebbero trascinato sarebbero forse diventate subito redini di cavalli scappati che avrebbero condotto a precipizio la povera biga della mia necessaria invenzione no, io dovevo rannodar queste fila soltanto con la fantasia quanto leggerò adesso e quanto vi narrerò non è di mia personale convinzione e ideazione bensì parlo di Brodsky Yossif e solo che io le condivido profondamente e le sottoscrivo Brodsky alla Library del Congresso di Washington avrà a dire queste cose buonasera a voi tutti che ci seguite e benvenuti sono felice che si possa camminare insieme sulla strada della letteratura e della poesia io dico lo faremo insieme con tutti voi con tutti i contributi che arrivano e che arriveranno anche in seguito io Brodsky l'ho scoperto 4-5 anni fa e devo dire che mi ha rassicurato rispetto alle modalità con cui conducevo la mia vita di coltivatrice della bella parola i tempi impongono una autentica e profonda onestà intellettuale ecco quello che dice ancora Brodsky una poesia ci offre un campione dell'intelligenza umana all'opera una intelligenza completa, non distorta è questo che costituisce il fascino essenziale della poesia anche a prescindere dal fatto che essa sfrutta delle qualità ritmiche ed eufoniche della lingua che sono poi di per sé rivelatrici e non poco una poesia continua se vogliamo dice al suo lettore Brodsky sii come me questo dice la poesia al suo lettore sii come me una poesia ci offre un campione dell'intelligenza umana all'opera una intelligenza completa, non distorta è questo che costituisce il fascino essenziale della poesia anche a prescindere dal fatto che essa sfrutti quelle qualità ritmiche ed eufoniche della lingua che sono di per sé rivelatrici e non poco una poesia se vogliamo dice al suo lettore sii come me e al momento della lettura ciascun lettore quindi voi diventate ciò che leggete noi diventiamo ciò che leggiamo assumete lo stato che la lingua ha in quanto poesia e la sua epifania o rivelazione ci apparterrà e sarà nostra tutto questo rimane vostro dice Brodsky anche quando chiudete il libro perché non potete tornare indietro al momento in cui non lo possedevate si può ben parlare di evoluzione asserisce Brodsky lui parla dell'America e all'America e dice nella storia documentata la poesia sembra abbia avuto un pubblico che non pare abbia mai superato l'1% della popolazione la base di questa stima è il clima mentale nel quale viviamo né nell'antichità greca né in quella romana né nell'età dei lumi si ha l'impressione che la poesia si tirasse dietro uno stuolo di fedeli men che mai legioni o battaglioni che avessero grandi schiere di lettori non è mai successo nella realtà la cerchia entro cui avevano notorietà era alquanto angusta e quindi i poeti corteggiavano i mecenati o facevano ressa alle corti e sono passati secoli le sedi del potere e le sedi della cultura si divisero allora e si sono divise per sempre è il prezzo che si deve pagare per la democrazia per il governo del popolo retto dal popolo e per il popolo di cui ancora oggi solo l'1% legge e poesia ripeto Brodsky sta parlando all'America se c'è qualcosa che il poeta moderno ha in comune con i suoi colleghi del Rinascimento è in primo luogo la misera diffusione della sua opera giudicare quindi questo tremendo e scandaloso per non dire addirittura tragica questa situazione attuale dell'1% due cose hanno bloccato l'accesso del pubblico alla poesia continua Brodsky l'assenza della stampa e la limitazione dell'alfabetismo ma oggi la stampa e l'alfabetismo sono praticamente universali e la proporzione di cui parlavo non è più giustificabile in effetti anche se ci atteniamo a quell'1% la tiratura di una raccolta poetica non dovrebbe oscillare tra le 2.000 e le 10.000 copie ma dovrebbe raggiungere i 2.500.000 questa è segregazione intellettuale si ritiene che il mercato della poesia sia formato da quelli che hanno un'educazione superiore ed è in questa direzione che punta un editore non si vuole credere che la folla in tuta blu lega l'Orazio e che il contadino in maniche di camicia lega il Montale o il Marwell anzi per dirla tutta non ci si aspetta che l'uomo politico conosca a memoria Hopkins e Bishop è una forma di miopia non esente da pericoli voi leggete Dante dice Brodsky perché ha scritto la Divina Commedia non perché abbiate sentito il bisogno di Dante personalmente non sareste stati capaci di evocare né l'uomo né il poema dovrebbe essere dunque la poesia onnipresente come la natura che ci circonda e da cui la poesia deriva molte delle sue similitudini onnipresente come i distributori di benzina se non come le automobili perché l'alfabetismo non sia soppiantato dal cretinismo raccomando di cominciare dalla poesia non solo perché così resteremo nella scia della nostra evoluzione di civiltà prima è venuto il canto poi il racconto ma anche perché la poesia è meno costosa da produrre l'unico dovere lo hanno coloro che la scrivono ed è quello verso la lingua ed è il dovere di scrivere bene scrivendo e soprattutto scrivendo bene nella lingua della sua società un poeta compie già un gran passo verso la società spetta poi alla società venirgli incontro a metà strada ovvero aprire il libro del poeta e leggerlo il nostro fine antropologico genetico il nostro faro linguistico evolutivo si direbbe che ne abbiamo la percezione da bambini quando assorbiamo e ricordiamo versi e diventiamo padroni della lingua da adulti però desistiamo da questo impegno persuasi che abbiamo ormai acquisito quella padronanza invece ciò che abbiamo padroneggiato è soltanto un idioma leggere poesia se non altro il processo di formidabile osmosi linguistica è anche una forma assai economica di accelerazione mentale entro uno spazio ridottissimo infatti una buona poesia abbraccia un immenso territorio mentale e spesso verso l'epilogo offre al lettore una epifania una grande una meravigliosa rivelazione chiama in causa la memoria ed è di giovamento per il futuro senza parlare del presente di certo non può ridurre la miseria la poesia non può ridurre la miseria ma può fare qualcosa per l'ignoranza e poi è l'unica assicurazione disponibile contro le volgarità del cuore umano a questo punto invito voi tutti a trascrivere le vostre poesie su foglietti decorati perché per farne poi tante fotocopie sempre delle dimensioni di 14 centimetri per 15 di altezza poiché l'equazione della mia vita è che la bella parola sappia farsi bella azione e allora colmeremo il nostro distributore che ho fatto appositamente realizzare da un artigiano della carta sul mio disegno uno scrigno dunque colmo di poesie che sistemeremo con uno speciale evento in un luogo assai iconico di Roma ogni avventore potrà prendere le nostre le vostre e anche accoglieremo sempre poeti sempre di più e le loro poesie e portarsele con sé sto già colloquiando con i gestori del luogo e con la stampa perché sia un evento che faccia il giusto rumore la poesia lo merita il pensiero dell'uomo lo merita in specie quello posto in bella veste nella migliore espressione lessicale ritmico musicale così il poeta diventa vate e concretizza la sua opera contribuendo al processo di evoluzione culturale e così che questo viaggio lungo 24 trasmissioni che faremo tutti insieme non si tramuterà in un ricordo ma si perpetuerà attraverso l'audiolibro di Lara è il distributore di poesia ecco tutto qui in questo tutto quello che vogliamo fare insieme a voi tutti io in primo luogo desidero sottolineare l'importanza che ha per me questo progetto che non vuole essere un comune reading tanto in voga e nemmeno una sequela di noiose interviste e molto di più vogliamo realizzare un confronto senza confini tra la poesia e la prosa perché come afferma Arturo Onofri non ci sono poeti cioè non ci sono quei personaggi miti letterari creati dalla pedanteria ci sono solamente momenti di poesia e poesie e noi vogliamo dare soltanto se è possibile i momenti creativi ed è per questo che selezioneremo ripeto dove è possibile i vostri momenti creativi isolandoli dal contesto e invitandovi a ragionare su quelli e a confrontarvi detto questo premetto che la scelta della tematica libera per iniziare si ha reso facile il vostro lavoro ma molto molto difficile il nostro d'altra parte per questioni di tempo non si poteva iniziare diversamente perciò in queste prime puntate essendo tematiche diverse spesso è venuto meno questo confronto anche se abbiamo trovato lo stesso dei punti di raccordo che vi sveleremo volta per volta ma non finisce qui perché sarà un programma un programma vivace ricco di tante sorprese come quella che vi ha appena riservato Antonella Pagano vera e propria animatrice culturale e la tua e la bellissima voce dell'attrice Liziana Narciso qui presente oltre chiaramente agli intermezzi musicali realizzati da Cristiano voltaggio brevi solo per i limiti temporali imposti dal programma dunque un programma direi artistico a 360 gradi ora vi chiederete perché abbiamo scelto di iniziare con un estratto dal Fumattia Pascal di Pirandello non è casuale questa scelta come nulla è casuale in questo programma il grande drammaturgo parla della sua nuova identità che si sta creando di Adriano Meis che per quanto fittizia deve comunque avere un legame con la realtà e non è una situazione dissimile a quella che vive lo scrittore artista in generale e quindi tutti voi poi che partecipate al nostro programma voi artisti scrittori perché tutte le vostre e anche nostre fantasie scoppiano come scrive Pirandello dal seno tumultuoso della vita e ora vi lascio all'ascolto del breve intermezzo musicale di Cristiano Voltaggio intitolato Gratitudine Grazie a tutti ora vi leggerò una poesia che ho scritto nei primi tempi della clausura dovuta alla pandemia una poesia negativa per il periodo pessimo che tutti abbiamo vissuto ma positiva perché esalta l'arte esalta quel momento in cui si verificavano quei cori alle ore 18 che davano una speranza un senso di rinascita della poesia dell'arte della musica al di là di ogni barriera ci aggiravamo increduli nelle nostre case in un tempo surreale sospeso tra l'angoscia e l'inedia fuori era la morte o forse il carcere ma dentro a un tratto il mondo reagì stava per rinascere dalle sue ceneri arte suoni condivisione al di là di ogni barriera e ora una poesia d'amore anche l'amore ha sofferto nel periodo della clausura ma non so forse ha trovato anche spazi più intimi e dunque all'alba domanderò di regalarmi ampolle d'acqua e rugiola con ali di farfalla ne aspergerò sulle braccia forti del mio amore all'alba dirò sì eterni tanti quanti granelli numeri di sabbia dell'alba dell'alba ascolterò parole gazzelle l'ali dei gabbiani metterò ai sorrisi sì che le sirene affiorino dolcissime sul mare d'onde di viole candite ogni alba ogni alba mi vedrà tornare fenice di mirra l'odoroso muschio coi velli dei miei pensieri accarezzarti amore mio del sorgere e del calar del sole non chiederci la parola di eugenio montale non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e al lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato l'uomo che se ne va sicuro agli altri e da se stesso amico e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro non domandarci la formula che mondi possa aprirti sì qualche storta sillaba è secca come un ramo codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo ciò che non vogliamo brava e adesso io e Lara vi annunciamo tutti i compagni di viaggio quelli che saranno con noi lungo questo cammino comunitario nel quale la strada è la stricata di sillabe e note è la strada della letteratura insieme alla strada della poesia dunque avremo con noi Bernardi Carlo Bruni Lucia Cimmino Paola Montanari Adonella Persiani Geltrude Tanzi Francesco Paolo Ferafini Eugenia Stella Angelino e Ruggero Vincenzo pane e lettere per tutti e poesia sia e intanto cominciamo a colmare il nostro distributore di poesie con tutte quelle che già buonasera a voi tutti gli autori questa sera ci hanno portato e sono già tantissimi ma cresceranno cresceranno lieviteranno fino a colmare questo e a diffondere la poesia su tutto il nostro pianeta e questo l'intento segreto e svelato l'intento l'intento l'intento